Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi nei nostri studi per presentare uno degli eventi che a breve prenderanno il via in Canavese, sto parlando degli Altocanavese Games, siamo qua con il comitato organizzatore e fondatore degli Altocanavese Games appunto, Cristian Milano, ciao, tu sei, facevi parte, ripresidente della Proloco di Prascorsano che ha fatto nascere, che ha creato questi Altocanavese Games, se vogliamo parlare un po' della storia di questi giochi. Sì, ciao a tutti, allora i Games nascono nel 2016 in Proloco a Prascorsano, si era pensato un po' di trovare una manifestazione che raggruppasse i più giovani possibili e grazie alla Proloco di Prascorsano e vice di allora Luciano avevamo ideato questa manifestazione che ha sottolineato dei buoni frutti, infatti già dalla prima edizione tutti i paesi avevano accolto in maniera positiva la manifestazione e da lì a sua volta poi si è deciso, visto che si è subito sentito che poteva crescere, di mettere in piedi un comitato, un comitato di un gruppo di amici anche perché non è facile, ci sono tante le cose da fare e quindi tra l'altro voglio ringraziarlo al comitato attuale perché proprio in queste edizioni si sta dando parecchio da fare anche perché purtroppo a causa pandemia siamo stati fermi due anni e quindi come dico sempre io tra un'edizione e l'altra se si potesse riorganizzare l'edizione dell'anno successivo il giorno dopo la manifestazione sarebbe semplicissimo perché la gente è calda, la gente sa di quello che stiamo parlando, a distanza di due anni quest'anno non è stato facile riattivare le squadre e quindi un grazie e anche un complimenti a tutti i capi squadra dei paesi che ci sono perché anche loro comunque non è facile per loro trovare la gente che dica sì vengo a tirare la carretta anche perché noi non è una manifestazione che abbiamo creato, abbiamo un po' scopiazzato i giochi senza frontiere che mi immagino che per la maggior parte dei giovani non sanno neanche di cosa stiamo parlando e quindi per loro non è facile per il capo squadra, non è facile per il comitato quest'anno siamo Rivara dove ci hanno accolto a breccia aperte, un grazie particolare al sindaco che è tutta l'amministrazione che si è subito resa più che disponibile per ospitarci e anche tutto il gruppo di Rivara che si sta andando a fare per darci una mano nell'organizzazione dei giochi Si è partiti nel 2016 con 10 comuni, siamo arrivati adesso nel 2023 con 16 comuni partecipanti quindi diciamo che il gioco si è aperto anche ad altri comuni oltre i classici che avevano preso parte Sì, nelle prime edizioni qualcuno poi si è perso per strada perché ripeto non è facile tenere viva accesa la fiamma dei games, però siamo contenti perché quest'anno arriviamo a 16 paesi paesi anche importanti, paesi come Rivarolo e quindi diciamo che la manifestazione ha tutto il perché di riuscire ad andare forte Rivara perché Rivara ha vinto i games nel 2019 quando sono stati organizzati a Favria, giusto? Sì esatto, noi da subito come comitato abbiamo cercato di creare questa regola per far sì che un po' tutti i paesi avessero la possibilità di ospitarli cioè chi vince l'edizione ha diritto l'anno successivo a ospitare i giochi se però questo paese ha già vinto l'anno prima passa all'ultimo proprio per dare la possibilità non solo a quelli magari più grandi o più forti di avere questa possibilità di ospitarci I giochi, ora poi parleremo con Gilberto che ci spiegherà meglio quali sono cosa si farà effettivamente, le squadre, i partecipanti, l'età? L'età varia, varia dai più piccini abbiamo dato la possibilità a tutti i paesi di portare tutti i bambini quindi da sei anni in su per farli giocare il sabato e poi nei giochi veri e proprio vanno da otto, dodici fino ad arrivare a sessanta, settanta, ottanta Fino a quando se la sentono Esatto Vuoi ringraziare qualcuno prima di passare la parola a Gilberto? Sicuramente, ripeto, ringrazio la provoca di Pasco Sano perché mi ha dato una mano per creare questo evento in secondo sicuramente tutto il comitato che c'è in piedi in questo momento voglio ringraziare il gruppo dell'AIB perché questi giochi comunque hanno una spettacolarità per renderle ancora più spettacoli tutti gli anni abbiamo chiesto l'aiuto all'AIB perché l'acqua è un fattore importantissimo per lo spettacolo e quindi chi meglio dell'AIB riesce a darci una mano quindi un grazie a tutta l'area 32 dell'AIB e un grazie a tutti i partecipanti e speriamo che il tempo ci aiuta e ci venga dietro per questa nuova edizione Speriamo, quindi siamo a Rivara il 9, 10 e 11 giugno se vuoi illustrare un po' quali sono a grandi linee i giochi a cui le squadre prenderanno parte Cominciamo come hai detto il 9 dove ci sarà una sfilata dei paesi che arriveranno la prima serata si svolgerà nel campo vecchio sportivo di Rivara Si è cercato di fare dei giochi come ha detto prima Cristian di spettacolari cercare anche di ritenere sempre abbastanza un po' i giochi storici i giochi che ci portiamo dietro da anni Comunque si inizierà quella serata per dare un po' di nome di giochi Quest'anno abbiamo coinvolto anche un po' l'amministrazione dei comuni che partecipano di cui si inizierà tutti i giochi con questa torta in faccia mettici la faccia che sarebbe che un amministratore o un sindaco o un amministratore alterrandosi con altri paesi riceveranno e tireranno la torta in faccia poi avendo dei punti a sorpresa Poi si comincerà con i giochi veri e propri con la carretta femminile e maschile con bubble crash a gironi a squadre a tornei poi dopo ci sarà il disco nella serata si finirà con quei giochi lì si riprenderà poi al sabato pomeriggio con il tiro alla fune maschile e femminile con la corsa dei sacchi quello al pomeriggio e poi si andrà avanti alla sera con una novità che è quella della bicicletta green che deve creare chi creare più corrente di elettricità poi ci sarà un karaoke a squadra che nella serata dove presenteremo i giochi del primo giugno alla manifattura ci sarà il sorteggio di ogni paese avrà la sua canzone da cantare quello per quanto riguarda il sabato si riprenderà l'ultima giornata di domenica dove ci sarà l'ultima fase di tiro alla fune maschile e femminile ci sarà il gioco questo è un po' il gioco rappresentativo quello che fa un po' più spettacolare che il gioco del castello poi ci sarà il gioco del campione quello un po' di forza e poi l'ultimo che è quello che ci portiamo da anni che è un po' il nostro cavallo di battaglia che noi lo chiamiamo l'abbiamo sempre chiamato così lo continuiamo a chiamare così il percorso di guerra che è quello che non è il periodo giusto però e questo è stato è un po' quello che chiuderà dopodiché ci saranno poi le premiazioni e tutto questo questo è un po' la tour de force di questi giochi che si svolgeranno a riguardo le squadre quanti componenti hanno? allora le squadre non hanno un componente fisso di personale hanno il secondo noi abbiamo andato a secondo dei giochi dell'età che può partecipare minorenni abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutti over 60 nella staffetta dove abbiamo cercato di raggruppare proprio lo scopo nostro che ogni paese riesca a riavvicinare e fare un gruppo con tutti i tipi di età e avremo anche il sabato come mi sono dimenticato un momento per i più piccoli dove non avranno a che fare con la classifica finale però abbiano anche loro un ruolo così in quel contesto di giocare anche loro ricordiamo i giochi si svolgeranno Villogliani e il campo sportivo vecchio esatto il sabato come ho detto prima il venerdì il campo sportivo vecchio al sabato il Villogliani e alla domenica si torna di nuovo al campo sportivo vecchio questa è un po' la logistica dei giochi posso chiedere qualcosa anche a Stefania l'organizzazione delle giornate tra l'altro vedrà un momento in cui anche ci saranno nel parco degli stand sì questa è stata un'idea degli organizzatori del comitato chiamiamolo di Rivara che hanno voluto dare uno spazio ad ogni comune affinché potesse pubblicizzare pubblicizzare quello che c'è da vedere le proprie attività eccetera e dare anche un angolo adibito a squadre per farsi un po' di tra virgolette di campo base tra virgolette per per le singole squadre questo è eventi collaterali qualcosa che ci sarà o che accompagnerà i giochi veri e propri allora no eventi collaterali quest'anno essendo appunto 16 squadre i tempi sono molto molto ristretti quindi diventa difficile riuscire a a colmare abbinare degli altri eventi qualcosa sì sta bollendo in pentola stiamo cercando di trovare il giusto momento per intervenire eventualmente delle o che gruppo o qualcosa però è difficile è molto difficile perché i tempi sono serrati e le squadre finiranno a giocare sempre intorno a mezzanotte tipo il sabato sera il venerdì sera anche non riusciremo per finire prima la domenica sera finiremo verso le sette sette e mezza poi ci sarà comunque ancora la premiazione la lotteria eccetera quindi insomma tre giorni intensi tre giorni molto intensi sì 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 decisamente una domanda mi viene mi viene così adesso come perché le persone dovrebbero venire arrivare agli Alto Cannavese Games a vedere a questo punto perché le squadre sono già fatte ma allora è un po' una filosofia far parte dei games nel senso che le squadre hanno modo di confrontarsi di trovarsi per tutto l'anno di creare dei legami di amicizia soprattutto che è la cosa più bella non c'è una competizione malsana nel senso che non avendo il professionista del bubble crash ruba le ciabatte insomma diventa difficile in trovare dei momenti di tensione quindi le squadre si si divertono i ragazzi si divertono e si divertono proprio perché c'è magari tutta la famiglia perché è un è un evento tra virgolette da famiglia non solo è bello vedere le persone che stanno insieme per tre giorni dimenticandosi di tablet e cellulari e hanno voglia di ridere hanno voglia di stare fuori hanno voglia di giocare e confrontarsi quindi anche la competizione tra squadre è molto sana cioè quindi è veramente un momento cioè sono tre giorni di gioco ma è di fessa perché poi è un po' il nostro obiettivo cioè quello che noi abbiamo visto fin dalla prima edizione a a Proscorsano che era una cosa da non far morire cioè bisognava trovare il modo di portarla avanti del motivo per cui si è deciso di creare un comitato staccarsi un po' da quella che era un ente di un comune per poterlo portare in giro cioè non avendo anche lì cerchiamo tutti gli anni con quel poco che riusciamo magari ad avanzare tra quello che è la vendita dei biglietti della lotteria e le iscrizioni di dare comunque di fare una donazione il primo anno l'abbiamo fatto con con i ragazzi dell'Andirivieni che anche quest'anno parteciperanno quindi è di nuovo un momento bellissimo perché si vedranno le squadre ufficiali che si confronteranno con i ragazzi dell'Andirivieni che dimostrano ogni anno veramente un coraggio incredibile una forza incredibile è veramente una voglia di giocare di stare con noi di fare quindi è molto bello da parte loro e anche degli organizzatori dei ragazzi dei ragazzi dell'Andirivieni che organizzano perché mi rendo conto che a volte è una bella responsabilità ma regala tanto non regala tanto ai ragazzi disabili ma regala tanto a tutti gli altri quindi anche quello è veramente quello del sabato pomeriggio quando riusciamo a ritaglierci quell'ora e mezza con loro è un bell'insegnamento un po' per tutti ecco certo quindi comitato organizzatore e comitato chiamiamolo comitato organizzatore di Rivara quindi una collaborazione stretta tra l'originale quello fisso diciamo e quello che ogni anno ovviamente cambia sì è importantissimo perché noi diciamo a inizio anno andiamo a chiedere al paese riesce a ospitarci sia in maniera logistica sia in maniera proprio di forza lavoro perché noi comunque siamo un comitato di 10-12 persone quindi organizzare una manifestazione del genere da soli sarebbe praticamente impossibile quindi ripeto grazie a il paese che poi a sua volta forma questo gruppetto organizzativo di un'associazione che tipo Rivara non c'è un'associazione vera propria ma c'è questo gruppetto diciamo è un po' la squadra la squadra che poi si allarga e diventa anche un po' promotore organizzatore dell'evento che ci dà supporto e soprattutto poi una grossa mano da parte del comune ospitante che ci apre le porte in maniera che noi riusciamo a dare il nostro meglio diciamo sì voglio lasciare un attimino quello diceva Stefi è importante quello io penso che dopo due anni di pandemia dove soprattutto i giovani si sono visti bruciare due anni della loro giovinezza della loro vita magari abituati a parlarsi tramite un telefono uno schermo forse questo sì questo è un momento anche se non salverà il mondo sicuramente ma aiuta diciamo il senso è questo quello che i giovani tornino un po' come eravamo noi una volta anche se sono giovanissimo io quindi però che ci aiuti che gli aiuti un po' a tornare a divertirsi insieme e a fare uno sport uno sport sano perché giustamente come diceva anche Gil questi giochi non sono non c'è la pratica di calcio il professionista di tennis ma è un gioco sono giochi goliardici proprio così com'era giochi senza frontiere e poi Rivara se ricordo bene se non mi ricordo più l'anno ma Rivara è stato il paese che ha ospitato la prima sfida dei dieci che forse voi non so se è gli anni 80 anni 80 e quindi anche questo c'è c'è fermento in paese perché ritorna a casa ritorna un po' a casa questa manifestazione sì no che ci sono delle cose quello che c'è di collaterale è un po' cioè parte di quello che facciamo come comitato nel senso che noi abbiamo sempre creduto tanto nel territorio tanti parlano di territorio ma nel nostro piccolo cerchiamo di fare veramente qualcosa cioè nel senso che uno vabbè l'idea di far migrare i games di mettere come primo premio il fatto di portarsi a casa i games è proprio per far conoscere altre realtà in modo un po' più approfondito perché tante volte uno passa da Rivara ma passa nella piazza passa nella straiola e di Rivara si finisce di conoscere lì ma questo capita un po' in tutti i paesi quindi quella è una prima cosa la lotteria che è uno dei cioè noi abbiamo due modi per sostenerci c'è uno è quello appunto di aver fissato una quadra una quota di iscrizione che devo dire i comuni hanno aderito ormai quasi tutti addirittura finanziandola quindi il comune si prende carico della quota di iscrizione in modo tale che le squadre abbiano solo più eventualmente le magliette eccetera quindi anche quello è un segnale da parte delle amministrazioni comunali che partecipano ci sono delle cose che avevamo già iniziato nel 2019 ma con la pandemia abbiamo dovuto un po' stopparla sto cercando di riprenderla adesso il fatto che le tessere sociali c'è chi si associerà adesso noi avremo modo in questi tre giorni di fare le tessere perché siamo associazioni quindi le dobbiamo fare però sto cercando di chiudere degli accordi ce ne sono già perché alcuni negozi hanno già i nostri adesivi sulle porte c'è chi la tesserina può soffrire di determinati sconti nei vari paesi quindi sto cercando anche lì di ampliare un po' e quindi invito tutti quando verranno nei tre giorni a cercare il nostro gazebo per sempre acquistare un po' di gadget perché vi hanno disegnato qualche maglietta i cappellini che insomma i ragazzi mi dicono che sono belline quindi insomma cerchiamo di spingerle e poi la cosa più importante è la lotteria la lotteria che non ci piaceva assolutamente l'idea di andare a comprare un tostapane nel senso per me cosa vinci il tostapane e ho detto quanti ne hai a casa tre e ho detto anche no e allora sempre in ottica di promuoviamo il territorio i premi della nostra lotteria sono esperienze messe a disposizione dalle varie attività che ci sono in canavese quindi abbiamo i voli con l'arcancele abbiamo le lezioni di parapendio abbiamo lezioni di trail con le mountain bike in zona tora abbiamo un weekend che sarà il primo premio un weekend con percorso spa completo al maiolandro di di noasca e insomma e tantissime altre attività che hanno regalato appunto hanno messo in palio proprio un un buono per cercare di conoscere attività magari che non si conoscevano prima e comunque di di far lavorare le attività della della zona quindi anche questo è il nostro modo di vedere il territorio e nel nostro piccolo e so che sono solo tre giorni poi il lavoro dura sei mesi ma sono tre giorni però nei nostri tre giorni cerchiamo di fare anche questo benissimo allora amici di Obiettivo News se volete vivere tre giorni tre intensi giorni di divertimento venite arrivare al 9 10 e 11 giugno grazie a tutti Grazie a tutti.